Sì, dunque siamo alla terza replica dello spettacolo che chiude una trilogia di opere teatrali scritte da Alessandro Giuseppe Tedesco e che hanno questo filo conduttore che riguarda la riflessione sulle nostre paure e l'incapacità anche di andare oltre degli schemi fissati che sono di altri e ci impediscono realmente di vivere la nostra vita. La terza replica appunto si terrà in questa sala bellissima dell'Annunziata e siamo molto lieti, tutti e tre gli spettacoli sono stati prodotti dalla nostra associazione culturale Paro Paro di cui tutti i membri del gruppo Prestavoce fanno parte. Il gruppo è nato nel 2020 con Sinassi che è la prima opera scritta da Alessandro Giuseppe Tedesco e che ha debuttato nel comune di Laterina Pergine Valdarno e ha proseguito poi nel suo corso con ben 10 repliche. Vi aspettiamo appunto domenica prossima, ne siamo molto lieti di collaborare per la seconda volta anche nell'organizzazione di questa serata il cui ricavato andrà a favore dell'associazione con Maura per i diritti del malato e nulla, mi resta solo da dirvi appunto vi aspettiamo con grande piacere da parte nostra.